buongiorno e bentrovati oggi vediamo come realizzare un pacco batterie 12 volt al litio con un modulo bms per il controllo della carica questi moduli bms consentono di interrompere la ricarica delle batterie una volta raggiunta la tensione ed evitano problemi di surriscaldamento o diciamo altri problemi di cortocircuito durante la carica delle batterie ma se vi piacciono i miei video non esitate a mettere like iscrivervi al canale grazie innanzitutto mi procuro tre batterie 18.650 da 2 ampere ciascuna recuperate da un vecchio pacco batteria semi nuovo e poi andiamo a trarre a tagliare queste questo lamierino per saldature di batterie è un lamierino da pochi millimetri predispongo il mio saldatore spot welder portatile che uso normalmente ha una input di ricarica di tipo type c e l'interruttore di accensione e lo vado ad accendere collego i due puntali necessari per la saldatura inizia a saldare prendendo i due punti sulla sulla letta vedete come avviene in maniera molto veloce la saldatura tutto dipende dallo spessore dal lamierino più il lamierino e spesso maggiore sarà la corrente di saldatura effetto il collegamento delle altre serie di batterie perché sono questo è un pacco batterie da 12 volte quindi sono tre batterie in serie da 3,7 volte effettuate queste saldature procedo ad effettuare il collegamento con il modulo hx 3s 01 che vedete qui che è appunto un modulo di bilanciamento di batterie al litio con l'uscita e l'entrata sui piedini input output direttamente collegabili con il carico questo modulo in particolare supporta una corrente di scarica di 5 ampere quindi se avete un circuito che assorbe più di 5 ampere vi servirà un altro modulo a questo punto per effettuare il collegamento al bms devo saldare dei fili sulla batteria vi ricordo che per poter effettuare delle saldature su una superficie smaltata occorre prima carteggiare magari con il dremel prima di poter depositare dello stagno che altrimenti non si depositerà facilmente vado a saldare il filo del positivo e poi successivamente il filo del negativo sulla superficie vedete metallizzata ma ripeto smerigliata effetto il collegamento dei punti intermedi b1 e b2 al modulo bms con dei fili diciamo anche più sottili perché servono soltanto per il controllo del voltaggio questi collegamenti e applico un biadesivo nella parte superiore per poi attaccarci il modulo bms che ha proprio questa forma proprio per essere attaccato in fondo alle tre pile poste in serie una volta effettuati i collegamenti intermedi delle varie batterie aspettando l'ordine dei positivi e negativi delle tre batterie poste in serie sono pronto per effettuare il collegamento del più e meno di ricarica o discarica di questo pacco batterie vado a stagnare i due capi di più e di meno e poi a collegarci dei robusti fili di positivo e negativo che mi serviranno sia per caricare il pacco batterie ma anche per scaricarlo con un utilizzatore collegato adesso conclusi i collegamenti posso andare a caricare con il mio solito carica batterie variabile a 12 volte vedete già l'assorbimento a 12 volte arriva a circa 0,4 ampere ma io voglio arrivare ad un ampere di ricarica in modo tale che la mia batteria sarà carica in circa due ore o poco meno lasciamo in carica questo pacco batterie tanto alla fine il bms farà il suo lavoro prendo un una plastica termorestringente per chiudere ermeticamente il pacco batterie ed evitare falsi cortocircuiti taglio un pezzo di questa plastica termorestringente la inserisco nel mio pacco batterie chiaramente ne esistono di varie forme e dimensioni e con dell'aria calda vado a termorestringere la mia plastica addosso alle tre batterie in questo modo il mio pacco batterie sarà più diciamo completo sarà più isolato dai cortocircuiti verso l'esterno conclusa questa operazione non mi resta che continuare a far caricare il mio pacco batterie e quando la corrente sarà pari a zero perché interviene il bms che blocca la carica del mio pacco batterie è pronto per l'utilizzo con i dispositivi più disparati possiamo misurare con il tester il voltaggio pari a 12 volt come potete vedere e andiamo anche a fare adesso una prova di carico di corrente collegata al pacco batterie una lampadina ad auto da 20 watt 12 volte vediamo qui nel suo massimo splendore il nostro pacco batterie funziona perfettamente riesce anche a fornire un'ottima corrente bene amici spero che questo video vi sia piaciuto se è così vi invito a mettere like iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto io vi do appuntamento a tanti altri tantissimi altri video in programma e ci vediamo alla prossima volta grazie ciao ciao